Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 187esima puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Questa è una puntata video come potete vedere se mi seguite su YouTube e quindi oltre alla mia sua dente voce potete vedere anche il mio bel faccino. Le puntate video del podcast di Marcos Box stanno continuando perché molta gente continua a supportare questo formato di puntate perché oltre ad ascoltare la voce potete anche vedere tutte quante quelle notizie riguardanti i programmi quindi con screenshot e quant'altro che vi vado di volta in volta a commentare nella puntata del podcast. Spero vi faccia piacere e qualora non l'aveste ancora fatto vi invito a iscrivervi numerosi al canale YouTube di Marcos Box cercate il hashtag quello del pacco o proprio cercate il termine del chioccio da quello del pacco e abbonatevi al canale, iscrivetevi al canale, mettete tanti bel mi piace e fatelo crescere. Manca poco per poter arrivare a 1500. Quindi dai, su su, riusciremo a portarlo prima della fine di questa estate a 1500? Io credo di sì, se tutti quanti collaborerete. Ma andiamo con ordine e apriamo questa nuova puntata del podcast di Marcos Box cominciando a parlare di Cosmic che si arricchisce grazie alla comunità. Il rilascio della versione alfa di Cosmic si avvicina e ci sono tante novità anche da parte della community di Cosmic che sta contribuendo con applicazioni ma anche con correzioni, diciamo così, a tutto l'ambiente desktop e mi piace, mi piace quello che stanno facendo i ragazzi di Cosmic stanno veramente facendo la comunità e la comunità è una cosa più importante all'interno del mondo del software libero open source. Vediamo quali sono le novità di queste ultime ore prima del rilascio della versione alfa di Cosmic La prima riguarda le intestazioni delle finestre inattive adesso le finestre inattive hanno uno stile differente quindi ci sono dei colori inattivi come vengono detti in gergo tecnico che servono a rendere più evidente quale finestra attiva e quale no qui possiamo vedere ad esempio un esempio di finestra inattiva e finestra attiva in modo tale da riuscire subito a focalizzarci su quale finestra stiamo andando a interagire è stato poi completato il lavoro sulle scorciatoie personalizzabili sono state aggiunte queste scorciatoie alle impostazioni di input è stata implementata poi la funzionalità super tab o alt tab per il passeggio da una finestra all'altra anche questa è una cosa comodissima se siete di quegli utenti che fanno tutto da tastiera è stata aggiunta alle impostazioni di visualizzazione di Cosmic la funzionalità di mirroring del display è stata fatta una modifica all'interno del pannello adesso quando il pannello diventa troppo affollato di applicazioni e di applet le applicazioni extra possono essere trovate nel menu del pannello quindi vengono collassate poi cliccate sui tre puntini e vengono espanse qui possiamo vedere uno screenshot che vi spiega graficamente quello che accade con il pannello quindi è stato migliorato il pannello anche in questo caso cosa molto importante per tutti quanti i videogiocatori sono stati risolti molti bug relativi ai giochi come problemi di minimizzazione, blocco dei giochi quando si perde il focus e cursori di gioco che sono invisibili quindi grande attenzione anche al mondo del gaming su Linux con Cosmic altre cose che sono state implementate sono migliorate le prestazioni multi-trending grazie all'ottimizzazione di Cosmic Comp quindi del compositore migliorate anche le prestazioni con correzioni di bug per i sistemi multi-GPU e poi ci sono quello che vi parlavo all'inizio di questo articolo novità per quanto riguarda i contributi di terze parti perché ci sono tanti contributi da parte dei sviluppatori ad esempio lo sviluppatore Razzi Tanuki ha aggiunto all'impostazione di Cosmic la possibilità di personalizzare il ritardo della frequenza della ripetizione della tastiera è una cosa molto di nicchia, molto nerd per tutti quanti i nerd della tastiera però fa piacere che sia stata aggiunta che cosa è stata aggiunta? è stato migliorato lo store di Cosmic quest'atto che cosa ha fatto? ha fatto un widget markdown di un app di chat un altro utente ha invece creato un'applicazione chiamata Cosmic Tasks che è un'applicazione di gestione delle attività sta anche lavorando un gestore di backup chiamato StellarShot da integrare all'interno di Cosmic c'è stata sviluppata da un altro sviluppatore un app per il rumore ambientale che si ispira a Blanket è stata creata un'applicazione chiamata Cosmic Deerstat che va a fare l'analisi dei file che aiuta quindi a migliorare e a gestire lo storage locale e infine un altro sviluppatore ha creato Oboete un'applicazione per le flashcard e Starrydex un'applicazione per la gestione del Pokédex questo è molto interessante per tutti quanti i fan dei Pokémon all'ascolto tra parentesi queste ultime due applicazioni sono disponibili anche su Flattab quindi potete installarlo volendo anche sulle altre distribuzioni già da adesso come vi dico sempre ogni volta si parla di Cosmic mi piace quello che i ragazzi di Cosmic stanno facendo anzi quello che i ragazzi di System76 stanno facendo e mi piace molto questo fatto che stanno riuscendo a coinvolgere la comunità per migliorare Cosmic e per arricchirlo di applicazioni e funzionalità GG per i ragazzi di System76 davvero bravi e un'altra notizia che questa settimana ho pulsato sulle pagine del blog è una notizia che aspettavo da diverso tempo qualche tempo fa vi avevo parlato della introduzione del fatto che era stato ripristinato nella versione di sviluppo di Ubuntu la possibilità di installare i pacchetti in formato DEB direttamente da una nuova applicazione dal nuovo App Center e beh adesso questa nuova anzi questa reintroduzione di funzionalità perché non è una nuova funzionalità prima c'era con la vecchia versione dell'App Center poi è stata tolta perché con l'ultima LTS di Ubuntu secondo me l'hanno fatta apposta a non lasciare di default una funzionalità del genere non introdurre di default una funzionalità del genere l'hanno fatto per poter spingere il più possibile il formato Snap fortunatamente sono rinsaviti nel corso del tempo hanno deciso di ripristinare all'interno dell'App Center la possibilità di installare i pacchetti in formato DEB e l'hanno reintrodotta anche su Ubuntu 24.04 con l'ultimo aggiornamento che è arrivato dell'App Center vi faccio vedere anche sulle pagine del blog che è stato postato anche un video che vi spiega come funziona questa funzionalità e quali sono le piccole criticità che ho trovato in questa prima implementazione della possibilità di installare i pacchetti in formato DEB dall'App Center tiratina d'orecchie ah, Canonical perché non l'ha fatto fin da subito io ci vedo del marcio io ci vedo del male secondo me l'hanno fatto apposta veramente per propinarci i pacchetti in formato Snap e poi adesso sono dovuti tornare sui loro passi vuoi per le critiche vuoi perché si sono accorti che era una cavolata da fare soprattutto su una versione LTS di Ubuntu una versione che starà lì per anni quindi, vabbè l'importante è comunque che sono tornati sui loro passi e che abbiano ripristinato la funzionalità quindi adesso un'applicazione in meno da installare nel guido posto di installazione perché non dobbiamo stare più a installare GDB ma potremmo installare i pacchetti in formato DEB direttamente dall'App Center passiamo adesso a parlare del lato verde del mondo Linux con una notizia un po' particolare SUS ha chiesto a OpenSUSE di smettere di utilizzare il suo marchio questa notizia è stata postata direttamente sulla mailing list di OpenSUSE è stata fatta questa gentile richiesta perché l'hanno fatta in maniera molto gentile e rispettosa quelli di SUS hanno chiesto a OpenSUSE di smettere di utilizzare il marchio di SUS ed è questa richiesta è stata propinata prima al consiglio di OpenSUSE e poi successivamente la notizia si è diffusa ed è stata diciamo così ripubblicata sulla mailing list di OpenSUSE ed è nata una accesa discussione con utenti contrariati da questa richiesta gli utenti invece che vedono in questa richiesta un'opportunità per Radistro di svincolarsi da SUS dalla nomina di SUS a tra proposito vi ho lanciato anche all'interno dell'articolo un talk dal titolo We are all grow up OpenSUSE is not SUS ed è un talk che è stato registrato in occasione dell'ultima conferenza di OpenSUSE dove si parlava anche di questo di questi rapporti tra SUS e OpenSUSE SUS un po' si sarà anche scocciata perché molto spesso vengono fatte richieste di correzioni di bug che sono nativi su OpenSUSE e vengono postate anche a monte su SUS quindi diciamo così un po' fanno bene a separare i marchi molto probabilmente come ha ammagginato qualcuno forse lo stanno facendo anche in ottica vendita del marchio SUS però lo scopriremo nei prossimi mesi perché veramente è stata fatta questa richiesta fatto sta che come vi dicevo c'è questa discussione in corso sulla main list di Ubuntu di OpenSUSE ci sono state fatte anche alcune critiche al consiglio di comunità di OpenSUSE sia per come sta lavorando in questi anni sia per come ha gestito il tutto di tutta questa faccenda di questa richiesta di SUS e poi questa fuga di notizie che è traperata sulla main list di OpenSUSE vabbè vedremo nei prossimi mesi come si evalverà la vicenda se magari anche il team di OpenSUSE prenderà il toro per il corno e deciderà di farsi una bella mascotte infatti il suo è un nuovo nome che non ricordi più SUS boh non lo so non so che cosa pensare non mi piace questa storia questo litigio in casa di stroverte però ci sta ci sta perché la richiesta non è campata per aria quella di SUS e passiamo ad un'altra notizia passiamo adesso a parlare di rilascio di applicazioni perché c'è stata una settimana in rilascio di Audacity 3.6 Audacity che lo conoscete è un editor anzi un software multipiattaforma per registrazione ed editing audio viene utilizzato largamente anche da chi registra podcast e quant'altro questa nuova versione di Audacity va a introdurre due interessanti novità che rendono il software più complito e professionale la prima riguarda gli effetti master adesso sono stati introdotti gli effetti master gli effetti master sono degli effetti che si applicano all'intero progetto in una sola volta sulle pagine di Marcosbox trovate anche un link che vi fa vedere un po' i dettagli di questa nuova funzionalità è stata fatta poi un'altra modifica interessante un nuovo compressore limitatore sono stati aggiunti un nuovo compressore e un nuovo limitatore in sostituzione delle versioni precedenti con diverse funzionalità aggiuntive è stata aggiunta anche una cronologia di riduzione del guadagno a questi effetti quando vengono utilizzati come effetto in tempo reale ci sono stati poi forniti da Vladislav Issaev e Marek Iwasikievicz spero di averlo pronunciato bene ma sicuramente no che hanno fornito dei preset di fabbrica adatti ad un'ampia gamma di casi d'uso per questi effetti e che sono disponibili tramite i pulsanti preset in impostazioni sono stati poi aggiunti dei nuovi temi e migliorate le prestazioni con aggiunta anche poi di nuove funzionalità come il supporto anzi di funzionalità di potenzialità del programma come l'aggiunta del supporto a FFM PEG7 il fatto che adesso possiamo incollare i file audio in Audacity utilizzando la scorciatoria CTRL-V e altri costucci e quella che potete trovare nei change log che trovate sulle pagine di Marcosbox mi fa piacere che Audacity continua in perterrito il suo sviluppo e si migliori di release in release l'acquisizione ha fatto bene anche se molti hanno storto il naso all'epoca e passiamo adesso all'elefante nella stanza una non notizia che ha fatto storcio il naso a molti molti fan di Marcosbox all'ascolto ho pubblicato un video che trovate sul canale YouTube un video sponsorizzato riguardante un sito internet chiamato Case Fun che è uno di quei tanti siti internet che offrono licenze a basso costo di Microsoft Windows e Microsoft Office a molti di voi non hanno digerito questo articolo me ne scuso per tutti quanti voi pinguini duri e puri però onestamente pensavo di fare cosa gradita perché so che molti sono costretti a utilizzare anche Windows sono costretti a utilizzare anche Office e quindi la possibilità di risparmiare qualcosina sull'acquisto delle licenze mi sembrava una cosa carina poi mi hanno sponsorizzato questo video spero anche di collaborare in futuro con altri con altre realtà anche con loro direttamente per altri post sponsorizzati su blog spero che non ve la prendiate e come alcuni di voi se la sono presa con questo primo video sponsorizzato che mi sono arrivati anche degli insulti in privato e vabbè ci sta ci sta perché siamo pinguini siamo molto molto calienti noi pinguini come il caldo di stasera fa caldissimo c'è un'umidità pazzesca e passiamo adesso a parlare di Google passiamo adesso a parlare di Google perché sul sito internet dell'autorità garante per la concorrenza del mercato è stata pubblicata una comunicazione un comunicato stampa che è stata avviata una istruttoria nei confronti di Google per pratiche commerciali scorrette la richiesta secondo l'autorità la richiesta di consenso che Google invia ai propri utenti per il collegamento dei servizi offerti potrebbe rappresentare una pratica commerciale ingannevole e aggressiva e per questo motivo l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttore nei confronti di Google e del suo copogruppo Alphabet in merito all'invio agli utenti della richiesta di consenso al collegamento dei servizi offerti alcuni di voi hanno fatto notare che sembra che ci si stia accanendo nei confronti di Google non è proprio così Google è un corosso Google è monopolista così come Microsoft è monopolista per quanto riguarda il settore del suite ufficio il settore dei sistemi operativi perché diciamo loro hanno Microsoft al predominio per quanto riguarda il lato desktop e quindi ogni volta Microsoft ad esempio gli introduce delle cose un po' ambivue tipo rinforzare l'utilizzo di browser o quant'altro beh quello è abuso di posizione dominante e pratica commerciale scorretta come si come quello che Google ha fatto in questo caso per me ci sta ci sta che queste grandi compagnie della del mondo dell'informatica siano bacchettate e spero che in futuro vengano bacchettate anche in maniera più incisiva perché alla fine qua gli metteranno quasi sicuramente finirà a Tarraguzzo e Vini con una con una piccola multicina un piccolo relativamente al fatturato di Google di chi che sia di questi grandi big e questi continueranno a fare il i loro i loro porci comodi non dovrei dire che sto postando questo video su una piattaforma di Google però ci sta ci sta a mio avviso che ripeto che che le istituzioni italiane ed europee cerchino di di mettere in riga questi colossi della dell'informatica voi che cosa ne pensate trovate che sia una cosa un po' esagerata oppure no lasciate un commento sulle pagine del blog o qua sotto all'interno del video e infine come ultima notizia di questa di questa puntata ho postato la seconda parte del mio articolo chiamato la mia degoglizzazione in questa seconda parte che segue la prima parte dove praticamente nella prima parte vi ho fatto soltanto diciamo così un discorso generale generico sulla degoglizzazione su perché è importante cercare di limitare l'utilizzo dei servizi google e in questa seconda parte invece vi ho postato alcuni alcuni passi che sto conviento per allontanarmi diciamo così dai servizi google per cercare di limitarne l'utilizzo dei servizi google perché come vedrete nell'articolo non è che li sto allontanando tutti sto cercando di limitarne fortemente l'utilizzo e nell'articolo vi racconto il mio percorso recente come la prima cosa che avete visto sulle pagine del blog vi sarà saltata gli occhi ho abbandonato la piattaforma blogger di proprietà di google e sono passato a wordpress per il sito internet e questa è come vi dico poi all'interno dell'articolo è anche una cosa che l'ho fatta ehm anche in ottica ehm in ottica futura per pararmi eventualmente le spalle da ehm dal cimitero di google dove google sapete ogni tanto prende e uccide qualche ehm suo servizio qualche sua funzionalità indipendente qualche giorno fa hanno anche annunciato la dismissione del servizio di ur short nella registra quelle cose che vi aprivano gli ur ehm il cimitero di google è grandissimo e google ogni volta fa di questi scherzetti che lancia un servizio vi fa abituare poi magari lo ammazza e così non rimaniamo coccerino ehm vi parlo poi anche delle delle alternative google maps che sto testando in questo periodo vi parlo dei motori di cerca alternativi a a a quello a google ehm ultimamente sto ehm utilizzando spesso brave search soprattutto quando utilizzo brave come browser web ehm anzi principalmente quando utilizzo brave come browser web ehm ovviamente utilizzo DuckDuckGo che è una delle alternative più note a google e in questo periodo mi sto anche ehm orientando verso lo spostamento della mia casale di posta principale ehm io sto ehm utilizzando principalmente in questo periodo protonmail che è una un servizio di mail cifrato eh e crittografato che eh viene offerto da proton eh che è una società svizzera sviluppa cioè finanziata finanziata no finanziata no che è stata messa in piedi da eh membri del CERN di Ginevra eh che offre tutta una serie di servizi eh orientati verso la privacy e vi dirò eh protonmail mi sta piacendo perché offre una versione gratuita del eh della casella di posta elettronico ovviamente con spazio ridotto però offre anche dei pacchetti in abbonamento e ci sarà un pacchetto molto interessante di proton che eh con ehm 999 euro al mese oltre a darvi ehm oltre a darvi ehm oltre a darvi la casella di posta con 500 giga di spazio diciamo così ehm ehm per quanto riguarda mail e quantato perché è uno spazio globale così come quello che fa che fa Google vi da 15 indirizzi di posta elettronica supporto per 3 domini con indirizzi di posta personalizzata eh vi da questi 500 giga che vi dicevo di spazio di archiviazione che possono utilizzare sia per la mail che per eh proton drive che è il suo servizio di cloud storage e vi offre all'interno del di questo pacchetto di 10 euro al mese anche un word processor proton pass che è un servizio eh ehm per la gestione anzi per lo storage delle nostre password eh come Bitwarden giusto per farvi capire e vi offre anche eh una VPN chiamata proton VPN ed è una la soluzione che sto attenzionando di più in questo momento sto cercando di di eh di valutare l'acquisto molto probabilmente effetturare l'acquisto a breve di questo di questo pacchetto omnicomprensivo e farò ciò ciò con la manina ai servizi di Google l'unico problema sarà eh durante questa fase andare a migrare tutti quanti i vari servizi le varie registrazioni che avevo fatto che si poggiavano su su Gmail sarà un bagno di sangue però sono cose che si fanno una volta e poi si si ci si dimentica sempre all'interno dell'articolo vi parlo dei miei due browser principali che sto utilizzando in sostituzione di Google Chrome che sono Firefox ovviamente e eh sto utilizzando anche anche Brave Browser perchè rispetto agli altri browser brassati su Chromium integra al suo interno una serie di ottimizzazioni eh che vi aumentano la privacy e vi bloccano pubblicità bloccano tracciamento e bloccano malware oltretutto poi vabbè questa è una notizia che non vi ho postato sulle pagine del blog perchè oggi se ne è parlato sul sul canale telegram ultimamente Firefox sta facendo alcuni scherzetti riguardo la privacy perchè ha attivato una funzione eh viene preattivata una funzione di mh per un suo servizio di di pubblicità di di ads all'interno del del browser che ha viene offerta come funzionalità preattivata e che molti hanno criticato e oh Firefox che stai combinando ultimamente vabbè comunque andatevi a leggere l'articolo che ho postato sulle pagine del blog seguirà una parte 3 non vi dico di che cosa parlerà questa terza parte della mia deguglizzazione ehm seguitemi in questo mio percorso e fatemi sapere se anche voi eh siete stufi del del mondo google e se state cercando di ehm di di passare tutto su su altre piattaforme su altri servizi lasciate un commento o in calcio al video o sulle pagine di marco's box ecco questa ultima notizia si conclude qui questa cento centottantasettesima chiedo scusa perché non mi ricordo mai il numero dei punti sì centottantasettesima puntata del podcast di marco's box ehm scusate se sono un po' fuso ma come al solito sto registrando la puntata con una temperatura pazzesca ci sono 33 gradi questa sera in stanze c'è un'umidità che è del 56 per cento c'è il cosino che mi visita questo lo faccio vedere cosi no non so se si vide che mi visura l'umidità quello dei rashomi che presi qualche tempo fa che ha la faccia molto triste e contrariata fa un caldo nella macchina non vedo cosa di andare in vacanza e non vedo cosa che si guasta un po' il tempo anche qui al sud ehm vi dicevo ci riascoltiamo ehm la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marco's box e come sempre priva di lasciarvi eh rinnovo il mio invito a seguirmi sui social mi trovate su facebook su twitter su youtube sulle principali piattaforme di podcasting mi trovate su linkedin con il mio profilo personale mi trovate su mastodon mi trovate su telegram soprattutto con eh con tre tre modi per seguire marco's box abbiamo un canale eh dove posto le notizie di dedicate al blog ma anche altre cosine che mi passano veramente che link che trovo interessanti che potete utilizzare anche a modi feed reader se eh se 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 non amate i feed rss che comunque sono presenti su marco's box trovate poi eh la community telegram di marco's box alla quale vi invito a iscrivervi numerosi noi non si parla soltanto di unix ma c'è il cazzeggio libero e ogni tanto ci sono anche cose eh fantasmagoriche che vi condivido cose molto interessanti ma anche offerte che vi condivido l'altro giorno vi ho condiviso quel bug che c'è stato con eh con con l'acquisto del del pixelotto se non sapete di che cosa sta parlando andate sul community telegram di marco's box e andate a recuperare i vecchi le vecchie discussioni e infine trovate un canale telegram dedicato alle offerte amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando da uno dei miei link che ferra come sapete amazon mi darà una piccola percentuale quindi ehm per voi non vi cambia niente perchè non pagate di più pagate sempre lo stesso però ehm aiuterete a supportare il blog ed acquistare attrezzatura perchè molto a breve dovrò cambiare anche la scheda video e infine eh vi ricordo che potete anche supportare il blog ehm acquistando rinnovando la vostra VPN su NordVPN sulle pagine di marco's box trovate i link ci cliccate sopra e trovate il link referral per rinnovare ehm rinnovare la vostra VPN trovate i link se ci cliccate sotto ehm trovate l'offerta del momento vediamo l'ultima offerta che stanno mettendo in questo caso così lo vediamo ah ecco adesso c'è un'offerta che vi dà eh fino al 72% di sconto sui piani di due anni più giga gratis per sali e sim ed è una cosa interessante per se stete pensando in questo anzi se avete la fortuna di andare a fare una vacanza all'estero e potete utilizzare il servizio eh se il mio fratello l'ho utilizzato recentemente quando è andato in in come si chiama in Svizzera si è andato a fare qualche giorno in Svizzera e ha utilizzato i sim di eh di di seghi quindi interessante anche questo servizio nuovo di Nord VPN e lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riaggiorniamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox e mi raccomando seguitemi numerosi su canale YouTube seguitemi numerosi su Marcosbox eh condividete il blog perché sapete bene che sono questa fase di eh riassestamento del blog eh dopo che ho cambiato il dominio dopo che ho cambiato piattaforma ho perso l'indicizzazione quindi ho bisogno del vostro supporto per far tornare Marcosbox ai farsi di un tempo su eh sui principali motori di ricerca ciao ciao a tutti quanti e buonanotte se buongiorno a secondo ciao ciao grazie a tutti